buongiorno dalla redazione del bolive daniele monte d'arpizio che vi parla siamo qua con il professor gerola molan franchi genetista e direttore del dipartimento di biologia buongiorno buongiorno siamo qui ovviamente per commentare insieme l'evento del giorno che è il nobel per la chimica il nobel che è stato conferito quest'anno a una ricercatrice francis arnold per metà per quanto riguarda i suoi studi sull'evoluzione guidata degli enzimi e poi per l'altra metà congiuntamente a george smith e gregory winter per la loro innovativa tecnica che si chiama phage display su cui adesso chiediamo lumi al professore cominciamo da dal francis arnold cosa significa questa directed evolution degli enzimi questa evoluzione guidata tutto è reso possibile dagli sviluppi dell'ingegneria genetica e cioè io posso estrarre e far lavorare un gene che produce una proteina in questo caso un enzima all'interno dei batteri e posso applicare delle tecniche di selezione artificiale per mutarlo mutarlo in modo casuale e poi selezionare le forme che sono con più più confacenti diciamo al suo lavoro posso migliorare la sua attività contro un'altra proteina contro il riconoscimento di altri metaboliti insomma da una evoluzione artificiale fatta completamente in laboratorio posso scegliere delle forme create artificialmente migliori di quella naturale ecco da da secoli potremmo dire da millenni di fatto l'uomo seleziona delle altre forme di vita a seconda dei suoi bisogni quella è la differenza tra quello che si faceva una volta e la scala in cui riusciamo a farlo oggi la scala è infinitivamente più più piccola perché io posso selezionare non un intero organismo ma un fattore un pezzo del suo genoma posso isolarlo farlo riprodurre in grande scala una scala che sia sufficiente per le analisi chimiche diciamo a un organismo che io ho domesticato che ci sono i batteri e scherichia coli avendolo riprodotto una grande quantità posso agire con le tecniche di ingegneria genetica in modo mirato per una piccola parte di questa sequenza di questo gene e modificarle una alla volta e poi capire per ciascuna di queste modificazioni qual è la migliore rispetto a quella naturale che faccia appunto il lavoro che io sto individuando che desidero fare fare ecco in questo caso sempre nel caso della professoressa arnold ad essere stati addomesticati sono stati gli enzimi ci puoi spiegare un attimo magari ce lo ricordiamo ma perché così importante beh gli enzimi sono delle proteine ma che hanno una funzione ben precisa e molto ristretta fanno un lavoro estremamente specializzato come un operaio delle vecchie catene di montaggio che girava solamente quel bullone cioè ogni enzima in grado di riconoscere il suo substrato che è un'altra molecola e di fare un lavoro preciso modificarlo solo in quel senso quindi la specificità e la velocità della reazione è la caratteristica di questa classe di proteine che noi chiamiamo enzimi abbiamo parlato finora per la parte del premio che è stata conferita a francis arnold mentre c'è una seconda metà come si usa oggi del nobel che invece è stata conferita per gli innovativi studi su una tecnica che si chiama phage display puoi illustrarci di cosa si tratta anche qui ci si basa sulle scoperte dell'ingegneria genetica e ci concentriamo sui geni che producono gli anticorpi questi geni sono estremamente variabili perché c'è un sistema nel nostro genoma che permette di rimescolare due strutture fondamentali di questi anticorpi la catena pesante e la catena leggera prodotta dai linfociti questa questa diciamo rimescolamento avviene in natura all'interno del nostro sistema immunitario per far sì che venga scelto l'anticorpo migliore per reagire a un particolare invasore che esprima degli antigeni ovviamente gli invasori non si conoscono prima ma il nostro sistema anticorpale ha già una memoria di una batteria di linfociti che hanno dei geni quasi pronti per aggredirli il problema è quando avviene l'infezione bisogna che rapidamente questo sistema di mescolamento delle catene pesante leggera che si chiama shuffling avvenga in vivo in tempi molto veloci in molti casi il sistema immunitario non è così veloce non è in grado di scegliere il migliore anticorpo creato dal migliore linfocita per reagire contro quelle invasore la tecnica che hanno ideato una tecnica straordinaria del phage display questi due ricercatori è che io posso fare questo rimescolamento in modo artificiale sempre all'interno dei batteri clono tutti i possibili repertori di catene pesanti e catene leggere che un sistema immunitario umano o anche di altri animali produce lo clono con questa parola clonare che fa paura ma che in realtà è essenziale nei laboratori di di genetica li clono all'interno di batteri li faccio esprimere tutte questa collezioni di rimescolamento artificiale di catene a dei batteriofagi dei virus che la esprimeranno nella loro superficie io ho quindi una collezione gigantesca di tutte le combinazioni possibili che un sistema immunitario potrebbe fare di tutti gli anticorpi a disposizione ma l'ho in tempo estremamente veloce e a questo punto posso selezionare contro lo stesso antigene contro i recettori per esempio di un invasore qual è l'anticorpo migliore riprodurlo artificialmente e utilizzarlo per abbattere il l'invasore ecco questo proprio nella sua motivazione nella sua motivazione l'accademia svedese parla di un'evoluzione imbrigliata ed è un pochino il filo rosso che lega queste questi questi due riconoscimenti riuniti nel Nobel che sappiamo che unico siamo giunti davvero a quello siamo riusciti ad imbrigliare l'evoluzione e che conseguentemente può portare secondo me non solo l'abbiamo imbrigliata e diciamo l'abbiamo copiata riusciamo a fare evoluzione ma con un vantaggio andiamo molto più veloce dell'evoluzione e controlliamo i prodotti questo in genere in natura non è detto che succeda tutti i prodotti vengono messi nella natura e alcuni funzionano altri soccombono in questo caso abbiamo la possibilità di fare evoluzione all'interno dei laboratori e di scegliere il prodotto migliore selezionarlo e magari buttare via tutti quelli che non sono riusciti bene che è una cosa che in natura in genere non succede in modo così incruento diciamo benissimo ringraziamo il professor Lanfranchi e vi diamo appuntamento con i servizi del BoLive grazie 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 grazie